Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo nel Borneo, più esattamente nella parte indonesiana, in una città che non vi dico qual è, perché non ha importanza, ci concentriamoci su queste immagini, un grappolone d'uva così grande voi non l'avrete mai visto, infatti non è un grappolo unico, sono tanti grappoli d'uva legati assieme, qui il posto è veramente molto autentico, ecco come potete guardare qui abbiamo anche dei minibus che sono, adesso non guardate la produzione dell'omino perché le persone arrivano qui a 1,50 m d'altezza, massimo 1,55 m d'altezza, il pulmino è grande esattamente come una Smart, e il giro, andiamo a vedere cosa c'è di qua, andiamo in trufolaccia, ecco qua abbiamo le famosissime, ecco qui abbiamo un bellissimo gatto, è un gatto del Borgno, e qui abbiamo le famosissime bici taxi, che sono quelle che usano qui per portare in giro la gente, ecco qua, dai chiudo questa cavellata qua col gatto e ci sentiamo alla prossima,